Allora, questa poesia l'ho scritta quando è stata fatta nel rifacimento di Via Calvario. Ogni turista che passeva si fermava e una fotografia gli faceva. Furlena non quadri gli vendeva. Casimini dallo Belgio, due volte all'anno armeneva e ogni volta al Comune se la vendeva. Si spende tanto soldi e per l'orto di Cristo mai niente. Finalmente arriva due volte, progetta, parte come il lavoro. Se sei, il lavoro in mezzo a un paese è come un pallone, un marte vende tutta la natura. Domenico il lavoro è durato, tra l'It e la Mandela, ma c'era pure chi approvava. Le quindici di lui a sera, che sorpresa! Una cascata di luci all'occhio si è presentata. Carmela è il campione, per le vive dicendo, venite, venite a vedere quanto è bello. La colpa è un sacco di gente. Chi dice brutto? Chi dice bello? L'architetto si è in un pantone e si è incazzato e si è buttato. Non si può buttare a fare niente volte. Quando il pallone e Pasquale usano la ruota, non si può lasciare la sua. Grazie. L'architetto sta qua. Grazie. Grazie.